Grazie A Santo Stefano dal novembre del 1929 al dicembre del 1931 Il controllo fisico del detenuto avveniva dalla quinta scelta Se un detenuto parlava da una parte all'altra la gente lo sentiva Quindi non soltanto c'era un controllo visivo Ma anche i gruppi elettrogeni sono venuti a tutta la notte